Ciao a tutti, e finalmente è uscito anche l'ultimo film di Woody Allen, di cui adesso parliamo. Però una cosa importante prima, questa è acqua, quella che ho sulla testa. Ci tengo a assicurare che appunto è acqua, con il tentativo vano di, come dire, ho cercato di darmi una parvenza di pettinatura, ma tant'è questo il risultato. Comunque, parlavamo di Rischling Festival. Ecco, io credo che questo film, per carità, io adoro Woody Allen, in senso sono uno di quegli attori per cui c'è proprio anche un affetto, a prescindere di cui appunto si amano le imperfezioni anche dei suoi film, insomma come con le persone da cui non ci aspettiamo la perfezione, ma al contrario, anzi, ci piacciono anche i loro difetti. Dicevo, questo film a livello di trama non è, non ha niente di particolarmente nuovo, insomma poi Woody Allen, lo sappiamo benissimo, tratta sempre, insomma, gli stessi temi che gli stanno a cuore, però ci sono tre elementi, secondo me, veramente interessanti di questo film. Uno, il citazionismo. Woody Allen cita il cinema europeo attraverso i sogni del suo personaggio, riprende Fellini, c'è sicuramente dentro appunto una citazione di otto e mezzo, c'è una citazione di persona, c'è una citazione di... posto delle fragole appunto con Ingmar Bergman, c'è il settimo sigillo con una scena esilarante dove troviamo anche Christoph Waltz nei panni della morte, chi ha visto il settimo sigillo immagina già, penso, quale momento sia stato ripreso del film. Ma il suo citazionismo, e questa è la cosa secondo me più interessante, che forse ai puristi per certi versi non piacerà, il suo citazionismo non è un semplice citare, perché appunto lui cita, riprende determinati momenti temiate scene, ma è come se andasse anche un po' a dissacrarli, a dissacrarli però, come dire, incastrandosi perfettamente nel mood della scena appresa. E questa cosa secondo me è molto, molto divertente e credo che... A me piace molto questo citazionismo, perché è come, non lo so, è come... è come i filosofi, come i filosofi quando magari riprendono una teoria, però non solo per citare, ma per arricchirla, ecco, ed è come se Woody Allen facesse questo, secondo me, il momento di persona, comunque questa... Cioè, lì appunto infatti si mantiene il tono cupo, ma, nel senso del film di Woody Allen, ma quello che dicono i personaggi è proprio perché lo dicono con quella modalità così cupa, ma dicono delle cose talmente assurde e talmente, come dire, irrilevanti per certi versi, oltre che cattive, da risultare molto, molto, molto divertenti. Ripeto, e c'è anche appunto da apprezzare, come Woody Allen comunque riesca a mantenere il mood. Non voglio fare troppi spoiler per questo che non mi sbilancio, perché non voglio rovinare. È un po' come... E ci pensate? A me ha ricordato come ha fatto Spielberg con Ready Player One, citando Shining. Non ha solo citato e omaggiato, lo ha cambiato, ha ripreso lo stile e la forma, ma gli ha dato un connotato diverso. Ha dissacrato, sicuramente, ma per certi versi ha forse ancora più sacralizzato, riportando nell'immaginario nostro determinate appunto scene, immagini, arricchendole e facendo una vera e propria dichiarazione d'amore. E in più, oltre a questo, c'è le altre cose interessanti. Una me l'ha fatta notare il mio collega Bassa, che qua cito, sarà contento, spero. Appunto dice che qua il personaggio protagonista va dal medico, come tante volte appunto i personaggi vanno dal medico, ma è sempre vissuto come un momento tragico. Qua invece il personaggio, non vi dico perché, andrà dal medico con... anzi, non vedrà l'ora di andare dal medico, si inventerà le scuse per andare dal medico, nonostante sia ipocondriaco e tutto il resto. E la terza cosa non me la ricordo più, la terza cosa non me la ricordo più, quindi penso che questa recensione finirà qui. Io credo che comunque sia un film interessante Woody Allen, per quanto mi riguarda, è sempre da vedere, perché ha la capacità comunque di creare mondi. Woody Allen, ogni film, anche se parla degli adolescenti o dei ragazzini, ma comunque di molto più giovani, come aveva fatto con Un giorno di pioggia a New York, il penultimo film, i personaggi sono sempre alleniani e anche se sono ragazzini, parlano comunque da filosofi alleniani e hanno le stesse turbe esistenziali, eccetera, eccetera. E Woody Allen se ne frega molto del realismo e questo secondo me però è da apprezzare, non gli interessa e lo sottolinea anche in questo film, lo dice più volte, perché ovviamente questo film è anche ambientato nel mondo del cinema. Infatti, diciamo, la nemesi del protagonista è un regista, un regista che tratta temi sociali, che tratta, come dire, fa film impegnati però legati all'attualità. E Woody Allen è il personaggio protagonista, questo Rifkin, questo Mort Rifkin, non è minimamente interessato, dice che quel tipo di cinema è futile, legato a un determinato periodo di tempo. Woody Allen ci fa un po' questo discorso sul cinema, per lui il cinema è qualcosa che non deve avere epoche, è qualcosa che è sempre attuale, perché deve trattare per lui temi universali che affliggono l'uomo da sempre e sempre continueranno ad affliggerlo, come per esempio l'amore e soprattutto il rapporto nei confronti della morte, insomma, le considerazioni sulla caducità della vita che Woody Allen fa nei suoi film. Ah, un'altra cosa che mi è venuta in mente, in questo film poi, e questo può essere anche criticato, perché uno può dire ma gli altri personaggi, a parte Rifkin, sono molto di servizio. È vero, sono di servizio, non sono approfonditi, sono molto piatti, ma questo secondo me è necessario, perché tutti gli altri personaggi sono estremi, come dire, giocano sul paradosso. Mort Rifkin detesta un determinato regista e tutti gli altri invece sembrano adorarlo come non mai. Tra l'altro ci sono anche, George Allen ci prende gioco, prende in giro determinate dinamiche contemporanea, infatti questo regista che viene così acclamato dalla critica a un certo punto dice di voler fare, viene fuori che vuole fare un remake di un film, che non vi dico quale, perché non voglio spoilerare, perché quella scena è stata veramente divertente, viene inventato addirittura un premio per questo regista, quindi tutto è fatto in funzione di accrescere la rabbia e i timori del nostro protagonista, per questo sono personaggi di servizio. Un'altra cosa secondo me interessante è la componente della psicanalisi, perché tutto parte con il personaggio che racconta allo psichiatra, lo psicanalista, scusate, quello che ha vissuto, quindi noi ovviamente con un flashback riviviamo tutto, ma la cosa interessante è che durante questo racconto noi vediamo anche i suoi sogni, ed è come se i suoi sogni in realtà è grazie ai suoi sogni che lui capisce cosa non va bene nella sua vita e cosa dovrebbe fare, è grazie a questi sogni che lui evolve come personaggio e infatti alla fine del film, dopo l'ultimo sogno, lui ha finalmente capito e quando torniamo che finisce il flashback e parla con il suo psicanalista e dice mi dica cosa ne pensa, guarda caso, il film finisce proprio quando inizia a parlare al psicanalista, muto, non sente più niente, parla, parla, ma noi non sentiamo cosa dice, questo proprio forse perché appunto il personaggio si è già psicanalizzato, lui si è già psicanalizzato, lo spettatore in teoria ha capito quindi qual era la soluzione ai suoi problemi ed è forse per certi versi ci dice anche quanto per Woody Allen la psicanalisi dopo tantissimi anni sia, conferma quanto per lui sia inutile e quanto siamo noi che siamo in grado di psicanalizzarci da soli va bene quindi insomma vi è venuto in mente tutto alla fine per fortuna grazie a tutti fatemi sapere ciao e alla prossima grazie a tutti